E tu hai dato la panna, chi la messa chi la panna Bravo 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 Pagliate Ok Ci hanno fatto Biola Lelania Un'unico Ok Unico 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 il punto più alto così quindi lo piettivo andare nel gioco di caluta e prendere la palla così adesso lo sapete fare avete fatto così adesso la prendete con lo stacco vai vedete com'è bravi bravi con calma bravi 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 Ok, bravi ragazzi, bravi, bravi Un cerchio in mano, per favore Allora, vedi ti prendere un cerchio in mano Fai un po' di una schifo in mano Affiniamo i balli Stonco, 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 stonco Stonco, stonco, stonco Voi lo vedete ragazzi, vedi lo sapete Vedi, 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 dammi la mano Allora, i coach, un pallone a testa con un portiere Qui l'armi ragazzi, l'armi Allora, allora, allora Atutto e qual è Avi, a nocica grania, animati al linea Allora, di più, di più Qua, basta S Exportando qui, par la pizza Let' matлять e valore Pallone a testa, pallone, ci siamo tutti, allora, punto la palla qui, punto la palla qui, dopo lo fate il tempo che volete, punto la palla qui, tu la devi prendere, la devi valutare la traiettoria, poi faccio. Pallone a testa, pallone, ci siamo tutti. Pallone, primo, quando inizia la parabola di discesa, tu, troppo a trovale qui, e metto qui. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.